A sette anni dal sisma non si attenua il sostegno del governo tedesco nei confronti delle popolazioni terremotate. In particolare la Germania da subito è stata al fianco dei residenti di Onna, uno dei borghi più colpiti dalla tragedia del terremoto. Accompagnato dal sottosegretario Ilaria Borletti-Buitoni, il segretario di Stato tedesco Gunther Adler ha voluto verificare personalmente lo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione della chiesa settecentesca di San Pietro Apostolo finanziata con 3 milioni di euro che si aggiungono agli altri fondi stanziati per la realizzazione del centro polifunzionale della frazione aquilana. C'è ancora da fare, però ripeto, sapere che si può contare su amici seri, presenti e assolutamente capaci di portare a termine il loro impegno è il primo passo per poter poi arrivare alla fine della ricostruzione. e io penso che oggi noi celebriamo appunto un modo di procedere, non solo la restituzione di un bene o comunque l'avanzamento dei lavori nel restauro della chiesa. Abbiamo un accordo che prevede appunto la ricostruzione della chiesa di Onna davanti alla quale stiamo adesso e penso che abbiamo fatto un buon lavoro, una buona cooperazione e oggi parleremo ancora con la contoparte italiana e sicuramente vedremo anche quello che si può fare magari insieme in futuro.